Ciao Poldo Volgarità Essere degli influencer negativi Yeah Questo è per i brand che non vogliono collaborare con me Perché sono negativo Ciao amici come state? Io sono Poldo Benvenuti in live Vi do come ogni sera il benvenuto A quest'ora iniziamo la nostra fantastica live Delle 20 e 35 Io oggi sono fuso Non so per quale motivo Ho fatto un sacco di pacchi di slugger Per spedire i cd, le magliette eccetera eccetera Sto iniziando a lavorare al video Che dovrà uscire fra un mese Che sarà uno dei video più impegnativi Che io abbia mai fatto Non so perché ho deciso di farlo Però già mi sto per Mi metto a piangere No, non è la serie su Minecraft Mi dispiace Allora amici Lo so che oggi c'è la Roma però Oggi c'è anche Boldo E signori ho visto che stanno arrivando Cioè stanno iniziando ad arrivare i cappellini Fico In realtà I cappellini erano il drop di febbraio Ora a marzo avremo un altro drop Di un altro prodotto Non so se siete interessati Ve lo spoilerò già Sarà una nuova maglietta Non solo logo Ma ci sarà una grafica La annunceremo penso nei prossimi giorni E la renderemo disponibile in pre-order Verso i primi di marzo Insomma, insomma Una cosa Una cosa interessante Eh ma io ho finito i soldi Eh Marisu purtroppo Allora te la regalo Ciao amici Benvenuti in live Allora Intanto Come dicevo Vi do il benvenuto Ringraziamo Mick Blast Per il sedicesimo mese A Yukin Per il ventiseiesimo mese Che storia hanno? Il canale è sbagliato Vabbè Ventisei mesetti Che hai sbagliato canale Non ho capito No Grazie per il quarto mese Ciao ragazzi Grazie dell'aere stamp Una maglia di stamp Col Mamma mia Ci sono ancora maglie di slugger? Sì ci sono Ci sono Cazzo Una maglietta Con la Con la foto di Poldo Baffo Mi deve ancora arrivare La maglietta di slugger E la La cassetta Eh Ci sono tutti i pacchi di là Che li ho fatti da poco Devo andare in posta E iniziare a spedirli piano piano Perché se no mi uccidono Signori In questo periodo Mi sto concentrando Un botto su youtube In realtà Soprattutto grazie a delle discussioni Molto stimolanti Che ha avuto con sedia Perché Sto Sto veramente Pianificando Dei video Fichissimi Ormai sono full lavoro Youtube Twitch Ormai il mio lavoro è diventato questo 100% questo Slugger Vabbè Un hobby E mi sto Impegnando un botto Per i video Voi non lo sapete Ma Inizialmente Cioè I vecchi video scorsi Erano tutti Vabbè Cioè il video da fare Lo faccio E lo pubblico Invece adesso c'è Mi sto Mi sto proprio mettendo A studiare Sai Tutti il discorso Di raccontare Una storia Di coinvolgimento Tipo il video Quello là Di C'è su internet Che è un video Con watch time Più alto del canale E' arrivato A Quasi 9 minuti Su 12 Minuti Di watch time Che è Un cassino Considerando che La media di watch time Mio è di 50% Quindi Ho scoperto che Lo storytelling E l'editing E' una cosa fondamentale E devo impegnarmi Di più Il problema è che Ci metto Tanto Ecco ragazzi Questa è una cosa importante Se qualcuno segue Sedia Lo avvisate Di lavorare di meno Cioè Quando vedete Un suo shorts Un suo video Una sua live Su twitch Ditegli Sedia Lavora meno Ok Fatelo per il suo bene Perché quello è un coglione Lavora 24 ore al giorno Non è un insulto In realtà E' una cosa per il bene Si deve calmare Deve trovarsi il tempo libero Di fare le stronzate E di cazzeggiare Perché quel tizio Lavora e basta Il che non va bene Allora Intanto signori La nuclearizzazione Di Pesaro e Urbino E' arrivata A 974 Magari Gli piace tanto Fra Lo capisco Ma C'era un po' Di 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 battuta In quello che ho detto Però è Un discorso Molto serio Perché capisco Che ti piace tanto Ma ci vai in Bon out Tempo 1 e 2 Così Allora Allora signori Oggi ho anche registrato La parte del video In cui mi bevo L'acqua di cottura Dei Furster Volete uno spoiler? Volete uno spoiler Di cosa è successo? Beh I 30 minuti dopo A pulire quello Tutto fuori Vi vorrei spoilerare letteralmente Una sola scena Del video Che uscirà lunedì In cui In cui Vabbè si vede Io che mangio i Aspetta un attimo Ve la cerco L'unico spoiler Che vi do È questo qua Ok Questo Questo è l'unico spoiler Che posso darvi Ovvero Io che corro In bagno Vomito E poi poggio Il telefono Sono un coglione Però ripeto Non pensavo Non pensavo C'è quel video È un incubo Solo per una cosa Ah vabbè È un incubo Anche per l'immagine Del furi Vabbè Il video di lunedì Sarà molto bello Sarà veramente Molto bello Allora signori Non perdiamo Alto tempo Io vi do il benvenuto Nella PoldoTV Per chi non sapesse Che cos'è La PoldoTV È un format Hai quasi fatto Sboccare Andrex In vocale Eccolo Sapevo La PoldoTV È un format In cui andiamo A guardare Dei video Interessanti Dei video Stimolanti Che spuntano Nella mia home Di youtube Che voglio guardare Ma non ho mai tempo Di guardare Perché Perché mi è arrivato Il nuovo Kirby Quindi voglio giocarlo Per favore Nintendo Intanto grazie Nintendo Per Kirby Mi avevano detto Che non dovevo dirlo Fino a domani Però vabbè Facciamo che domani Ringrazio Nintendo Grazie Chiaki Per i 100 bit Come stai cara Grazie di cuore Per tutte queste donazioni In realtà In questi ultimi mesi Grazie di cuore Chiaki Grazie a BGSB09 Per il Prime A Toxic Ciao bello Grazie al secondo mese E grazie a Demo Metal Per i 50 bit Mi è arrivato il caprino Sono felicissimo E anche a Micblast Grazie del sedicesimo E a Itakidinui Grazie del Prime Entrate nel gruppo Telegram Punto esclamativo Telegram Per i sub E grazie anche a Bingskingo Per l'undicesimo mese Ciao bello Porti Kirby Non lo so raga Pensavo non vi interessasse Posso portare Provare a portarlo domani Kirby Non lo so Vediamo Allora signori Il video Il primo video di oggi Che guardiamo Si chiama Il ridicolo stato di YouTube Italia È il nuovo video di Nate Da quando è uscito Ho una curiosità Di vederlo Perché Nate è un altro Come sedia Come altri Che io considero Ai top Di YouTube Italia Per quanto riguarda Editing E storytelling E Un riferimento Oggi confermerò O sfaterò L'affermazione Più fatta su YouTube Italia YouTube Italia È una merda Scusate ma mamma YouTube Non mi lasci dire parolacce Nei primi 8 secondi Del video Quindi devo censurarle Comunque Abbiamo sentito Questa affermazione Per anni Tanto che ormai È quasi data per scontata Ma da dove viene Considerando che Alla fine L'avrai sentita Un po' dappertutto Comunque Almeno una volta E se non l'hai mai sentita Tra l'altro La home page Di Nate È tutta in inglese Questo la dice lunga Anche sul Perché faccia video così E Fico Perché in YouTube America Lo sto esplorando In questo periodo Ci sono tantissimi Video Fottutamente Stimolanti E ci sta che la sua home Sia piena di ste robe Certo Al di là di Walter White Junior Breaks Into Jesse House Però tipo Vedi questo E altri Ora non viene Però comunque Tipo anche Sanni mi pare Si chiami Fate video Della Madonna Su sto tipo Io sono in diretto Su YouTube Italia Ma il giorno Siamo tramite La Polo TV Praticamente Alla fine L'avrai sentita Un po' dappertutto Comunque Almeno una volta E se non l'hai mai sentita Te l'ho appena Fatta sentire Quanto cazzo YouTube Italia È una merda Ciancianguilla Ciancianguilla Molto buono Migliorato con l'editing Migliorato Qualitativamente Storytelling Parlando Escono video Secondo me Ancora meglio Non lo so Stavo per pensare Una rima trap Ma ogni volta Che faccio una rima trap Divento virale Su TikTok Quindi sto zitto E tipo C'è un rapper E tutti scrivono No vabbè Il più forte Del 2023 No L'emergente Più forte Bro Poi magari Apri Spotify E c'ha 20.000 ascolti E dici Ma emergente dove No comunque Io dai Che questa forse Salva YouTube Italia Effettivamente Lo leggi sotto Ogni video Detto questo Posso comprendere Il motivo Per cui si sente Un bel po' E sembra essere Un sentimento generale Che in molti hanno qui E per comprendere Tutto ciò Dobbiamo ricordarci Che come in altri paesi Beh siamo una grande Bolla separata Dal resto di YouTube In cui c'è YouTube Tra virgolette E Guarda cosa c'è Minchia ti sei guardato Quasi un'ora e mezza Di live Grande Virgolette globale O più che altro In inglese Che è la lingua Che generalmente Sanno un po' tutti E poi ci sono tutti Gli altri YouTube Come Spagnolo Russo E Cosa succede In In YouTube Russia Scusa In poche parole Essendo una sorta Di ecosistema Che come tutti gli altri Si collega anche A YouTube Globale Tendiamo maggiormente A svilupparci Nella nostra bolla Ma Riflettendolo in parte Portandolo magari Anche con la nostra cultura Ed il nostro modo Di vedere i contenuti A proposito Figa questa cosa Tipo di portarci In mezzo La nostra cultura Tipo ciccio Che fai in cucina Con ciccio Anche Cioè il food blogging Italiano Per quanto uno Possa dire Vabbè Cringio Altro Sta vedendo Secondo me Adesso La sua evoluzione Vedi Pratt Giulia Crosbo Franchino E altri Per quanti siano video Che a me Non ha arrestato Michael Jackson Stavo parlando Per quanto siano video Che a me Non è che interessino Più di tanto Perché io Non mi fa schifo Qualsiasi cibo Io mangio Pochissime robe Purtroppo E questo lo sapete E sta Si sta evolvendo Un tipo di format E un tipo di modo Di portarlo interessante Però la domanda è Youtube America Da quanto c'è il food blogging Fatto così No per fare il rompicoglioni E l'importante Che in Italia Arrivi quel contenuto interessante Anche perché si parla Spesso di copiare Ah questo video L'ho copiato in Italia Questo video L'ho copiato in Spagna Questo video L'ho copiato Riga Youtube Funziona così Non è Non è un copiare E' più Pensa Pensa proprio in America Che ci sono Youtuber che fanno letteralmente Lo stesso tipo di video Ma Con Il loro Il loro Il loro personaggio di mezzo Rendendo il video Unico Sostanzialmente Salve a tutti Qui è Nate Io vi ringrazio moltissimo Per i 30.000 iscritti E benvenuti In questo nuovissimo video Sono pochi Beh credo che il modo migliore Per poter rispondere alla domanda Di questo video Sia di chiederla Direttamente Alla popolazione Di Youtube Italia Insomma Proprio voi Tu che stai guardando Questo video Così ho fatto un post community A riguardo E si a proposito Quando faccio post community In cui faccio domande del genere Commentando Potreste finire in un video E se c'è una cosa Che non sto scherzando Ho letto nella maggior parte Dei commenti Ciao Francesca Grazie del settimo C'è troppo cringe Misto da contenuti Di bassa qualità E soprattutto Non originali Sì ma cos'è il cringe Cioè C'è troppo cringe Ma tu cosa intendi Per cringe No tu Nate Tu spettatore Perché è una cosa Che in realtà Mi dite molte Minchia Youtube Italia E cringe Cioè il cringe È soggettivo Quindi Il cringe può essere O quella roba Che guardi Che non sei tu il target Ergo Io dico che Youtube Kids È cringe Perché non ne sono il target E quindi ne diventa un po' La parodia di questo concetto stesso O può essere cringe Qualcosa che Adatta al tuo target Viene fatta e guardata Da tuoi coetanei E che tu trovi Poco interessante Rispetto ai tuoi coetanei Al tuo stesso target Allo stesso pubblico Che invece dice Ah cazzo Questa roba è fantastica Quindi dipende anche Questo qua Perché Youtube Italia È cringe Considerando anche I video per bambini E altro Per i bambini Non sono cringe Quindi i bambini Ad esempio Non dicono la stessa cosa Ci sarebbe da dividere In realtà Youtube Veramente Tra i video per bambini E i video per gravi Però diciamo Diventare veramente impossibile Tu sei cringe Non sto scherzando C'erano decine di commenti A riguardo E questa frase È verissima come no Perché per prima cosa Dobbiamo definire Cos'è un contenuto cringe Per un Ho Ho predetto il video Ok Vediamo Vediamo A livello di definizione È un qualcosa di percepito Come inautentico Esagerato O maleseguito Ma è anche molto soggettivo Ecco È soggettivo Però tu hai sempre messo Il video di Crazy Mad Per quanto per noi sia cringe Non è un video adatto A me di 21 anni Che dico che quel video è cringe Capito Magari un ragazzino di 16 anni Che vede Quel video Di Crazy Mad O di 10 anni Dice Boh è un contenuto Come tutti gli altri Non ci bada Attenzione E non si incazza Come ad esempio Mi sono incazzato io Quando ho visto quel video Ci sono cose che Ok Per un po' tutti sono cringe E basta Ma c'è anche Tanta altra roba Che invece ad alcuni Fa provare questo sentimento Ed ad altri no Su internet Credo che la tua percezione Di ciò Sia basata principalmente Dalla tua età E dal genere di nicchie Di contenuti Che guardi online Esatto O persino Dal social media Che utilizzi principalmente Per esempio Immagino che Se guardi principalmente TikTok Avrai una soglia del cringe È diversa La soglia del cringe Se guardi TikTok Veramente Non Qualsiasi cosa guardi Non sarà cringe Cioè se tu sei un average user Di TikTok Credo che il cringe Non l'hai mai provato Se questo Cioè se riesci a guardare TikTok Hai uno scudo da cringe Incredibile Puoi navigare su YouTube Kids Senza che ti succeda niente Qualcuno che guarda più YouTube Perché il contenuto medio Nelle due piattaforme È diverso Anche se credo che In questo caso Le due si stiano un po' avvicinando Con l'arrivo Degli YouTube Shorts E se ti può interessare Feci anche un video a riguardo Un paio di mesi fa Allo stesso tempo Immagino che questo cosiddetto cringe Scusate Questa è una nota per Nate Tipo sai quando il professore Guarda i tuoi compiti E ti mette tipo La nota vicino alla cosa Ottimo In richiamo A un altro video Da guardare Complimenti 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 Che si sa In fin dei conti Ormai per buona parte Sono fatti con il solo intento Di ipnotizzare il bimbo Per dieci minuti Urlando qualsiasi cosa accade Allo stesso tempo Credo sia giusto comparare Cazzo Cadiax ad esempio Per me è tra i peggiori Delle nuove leve Di YouTube Kids Potete dire quello che volete Lion Che è cringe Anche se per me Lion non è cringe E Potete dire Però Cadiax È veramente Uno di quei fondi Di barile Secondo me Di YouTube Kids Senza se Senza ma Claimi Ci ho messo un sacco Grazie del terzo mese Ornito Grazie del terzo Ciao ragazzi Bentornati Bentornati Lion non è cringe Concorde Mambano Lion non è cringe Lion è bravo In quello che fa Questo è innegabile Oggi è la modalità Niente personaggio di Pold No però in realtà È indubbiamente vero Che Lion è bravo In quello che fa Questa situazione Con YouTube Globale E Beh Là c'è anche di peggio Grazie Walter Per il prime Ma il motivo per cui Ne sentiamo così tanto parlare È perché qua siamo Una versione molto più Compressa di YouTube Globale E sembra che Nella nostra versione Della piattaforma Buona parte dei contenuti Si è indirizzata a bambini Per il semplice motivo Che hanno molto più tempo libero E tendenzialmente Sono il modo più facile Per guadagnare Essendo che non richiedono Contenuti troppo elaborati E onestamente Puoi fare un bel po' di soldi Vendendo sicuramente Molto più merch E tutto il resto Si vi faccio Banalmente Uno Uno schemino Ok Questo è MS Paint Allora Questo è il pubblico Di Di YouTube Ok Quindi questo è YouTube Ora Su YouTube Ci sono Un sacco di bambini Ok Immaginate che questi Siano un sacco di bambini È una Una rappresentazione Ovviamente soggettiva Ok I bambini Sono tantissimi Perché ogni volta Che prendono Il 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 telefono in mano È Ok Però Gli adulti Su YouTube Questo secondo delle statistiche Perché uno dice Vabbè I bambini sono di più Perché No i bambini non sono di più Io Ho visto Dalle analytics Che in realtà I bambini A livello Facciamo un piccolo disegno Per farvi capire Quanti sono Rispetto Agli adulti Cioè gli adulti Le persone dai 18 anni in poi I 16 anni in poi Insomma Quelli che non guardano I video per bambini Sono così Quindi tu dici Cioè Se i bambini Sono così pochi E gli adulti Sono così pochi Com'è che i video per bambini Fanno 8 trilioni Di visual E i video Per più grandi Boh Ne faranno Un trilione Com'è possibile E vi spiego perché Perché questa gente Magari Dedica Boh Un'ora al giorno Anche ovviamente di più Per guardare video Ok Facendo Metti una media I bambini I bambini invece Hanno circa 24 ore Di tempo Libere Circa eh Perché poi c'hanno quelli che dormono Anche Di tempo libero Per guardare i video su youtube Molti bambini Fanno quello Tutto il giorno Quindi immaginate Quanto sia Facile Per un canale Di youtube kids Farmare Così tante Visual Qualse hai Un pubblico Che non è gigantesco Come il resto Di youtube Ma Guarda video Tutti il giorno Ripetutamente A tal punto Che guarda Così tanti video Che basta Quella Scintilla più stupida Per far diventare Il tuo video Incredibile Motivo per cui I bambini Non si fanno problemi Sul tipo di video Guardano tutti i video Invece tu Avendo un'ora al giorno Da dedicare A guardare i video su youtube Hai bisogno Di cercare Quel contenuto Come la sedia a due gambe Che ti fa il voyager Sul fandom dei fiori Piuttosto che guardarti Boh Un video Che ne so Di ciccio gamer Che gioca Boh A moto gp Capito E poi gli entrano i ladri In casa Cioè E questo è il concetto Che volevo farvi capire Un attimino Sul perché Youtube Kids Stia diventando Così potente Nonostante i bambini Siano così pochi Spero di aver reso bene Il concetto E che non sono stato Confusionario E vi ho fatto pure Lo schemino A sto giro Perché ogni volta Guardo i video Uncut dove spiego qualcosa E dico Ma come fa la mia chat A capire i miei discorsi Sconclusionati E quindi ho detto La prossima volta Faccio un disegnino E ogni volta che spiegherò qualcosa Faccio un disegnino Ad esempio Adesso sto spiegando qualcosa Questo sono io E non si capisce mai Quello che dico Perché sono stupido Quindi devo disegnare Ecco In questo modo Voi potete capire E questi siete voi Che siete felici Perché avete capito Che cosa sto dicendo Che cosa ne pensate Dell'evoluzione Del mio canale Sto prendendo seriamente Questo lavoro Detto questo Ne sentiamo anche un sacco parlare Perché ormai Fare reaction a Youtube Kids È diventata la norma Dato che il livello Di degenerazione Mi piaceva Fare reaction a Youtube Kids È diventata la norma E tutte le reaction Sono mie Perché ormai Fare reaction a Youtube Kids È diventata la norma Dato che il livello Di degenerazione Cringy che si trova In quella sezione È diventato così alto Che ormai Si è quasi creato Un accordo non scritto In cui c'è chi guadagna Facendo content Per bambini esagerato E poi c'è chi ci guadagna Reactandoci E per questo motivo Ci sono meno creator Che bello Essere esempio Di studi È così O mi stava prendendo in giro Che portano contenuti Più vari Magari fate conto Pure con video Indirizzati principalmente Dai 16 ai 25 anni O anche di più Anche se questo Non vuol dire Che non ce ne siano Infatti negli ultimi anni Si sta vedendo Una sorta di Ricambio generazionale Youtubico Faccio l'esempio Con la nicchia del commentary In cui si è vista La quasi completa scomparsa Di canali come Youtube fa cagare O flame Quella gente lì Che o ha smesso di fare video O ne fa molti meno Ed ha cambiato il suo Sta cosa è vero Il fatto dei commentary Si è fermato A un certo punto Cioè a una certa Non c'erano più Finiti Youtube Cioè dopo E Youtube fa cagare Che prendeva Delle cose Che succedevano E le analizzava Spiegandole Per filo e per segno Quindi faceva commentary Faceva opinionismo C'era pure flame Eccetera eccetera Finito quest'era E' nata l'era In cui questi personaggi Si sono uniti In uno zorde Al posto di Prendere le cose Che succedevano E dare la loro opinione Li hanno iniziati A generare Queste cose Che succedevano Però vabbè Questo è un Un commento Fuori luogo E poi in questi ultimi anni Sta rinascendo Questa cosa del commentary Tipo il Doggo Tipo Twinir Tipo Guardando Mannaggia E quindi E' buono E' buono E' fico Ma anche Ciancianguilla Commentari Quello che sia Però comunque A me piace Perché Poi c'erano Gematria Dim E' vero Anche tu facevi video In quel periodo Su genere di contenuti E sta arrivando Un ricambio generazionale In cui ci sono Nuovi canali del genere Ma con stili diversi Credo che Tutto ciò Si è iniziato Con Twinir Tipo Uno o due anni fa Poi è arrivato Ciancianguilla Eccetera In poche parole Siamo in Sì ragazzi Però Twinir E' diventato Troppo pericoloso Io ammetto La mia Debolezza Al politica Ricorrect Ma perché C'è lavoro Su Twitch Ho Per curiosità Visto Qualche altro video Al di fuori Delle live Twinir Twinir Sta I vecchi video C'era Quella roba Che tu dicevi Ok E' un po' strana Come situazione Di cui parlare Ecco Più video passano In Twinir Più dico Ok Non posso più Guardare i suoi video In live Sennò Quasi entrano In delle discussioni Che non vanno Molto bene Per la piattaforma E per il mio lavoro In un periodo In cui sta arrivando La nuova Tra virgolette Leva Di YouTube Ovviamente c'è gente Che ha creato Bellissimi contenuti Per anni E lo fa ancora Ma credo che Pian piano Finalmente Stiamo vedendo Più varietà nei contenuti E contenuti nuovi Poi vabbè Bellissimo Metà della roba Che c'è a livello globale Qui sta arrivando Solo adesso Ed ecco Forse uno dei problemi Più grandi di YouTube Italia È il fatto che Tantissimi contenuti Mancano O arrivano dopo Ed è anche il motivo Per cui in tanti Tra cui pure me Hanno la home Popolata quasi del tutto Da video in inglese Allo stesso tempo Forse non dobbiamo vedere La cosa come del tutto Negativa Perché pensateci In questo momento Su YouTube Italia C'è un grande buco Di contenuti Che a livello globale Ci sono Ma che qui Semplicemente mancano O comunque Ce ne sono pochi Nel genere E nello stile Questo buco Negli anni Si riempirà Pian piano E poi Probabilmente ci sarà Un altro ricambio generazionale Ma questo comunque Significa che al momento C'è meno competizione Verso certi generi Di contenuti Quindi Se hai un'idea nuova E vuoi provare A portarla su YouTube Beh Perché no Onestamente Credo che questo Sia uno dei momenti Migliori per cominciare Cioè Sicuramente In robe come il gaming Farai fatica a crescere Perché è una sezione Oversaturata E stra piena di competizione Ma magari Puoi cavartela bene In altra roba O proprio Creare qualcosa di nuovo Che possa funzionare Detto questo Finora avrai notato Che per rispondere Alla domanda Inizio video È stato importante Comparare YouTube Italia A YouTube Globale Per questo motivo Credo sia essenziale Raccontarti di una cosa Che ho notato E che Mr.B Tutti dicono Il periodo migliore A me non piaceva E infatti era il periodo In cui YouTube Il periodo Che più mi aveva interessato Era quello Delle YouTube poop Che era Quando erano A livelli altissimi Però poi Negli ultimi 3-4 anni YouTube Italia è stata Veramente Di nuovo Una merda Non lo so Questi ultimi 3-4 anni Di YouTube Se ci penso Sono stati Veramente Strani E forse I prossimi anni Saranno ancora Più strani Però tipo 2022 E 2023 Mi stanno piacendo Cioè Come è iniziato Il 2023 Per YouTube Italia A livello di contenuti Boh ragazzi È nato un canale Come quello di sedia Che ci voleva Su YouTube Italia È nato Il commentare Si sta riprendendo Nova Lezio E Geopop Stanno iniziando A portare Anche quel tipo Di informazione C'è la C'è la ciccia C'è la ciccia Ovviamente dire Che gli anni scorsi Sono una merda Escludendo personaggi storici Come ad esempio Che ne so I video di barba scura O altri È ok Il problema è che Non basta quello Per dire Allora YouTube Italia È incredibile Non lo so Per me tipo L'anno scorso E quest'anno Non sono Malissimo Secondo me Quest'anno Capiremo veramente Che andazzo Sta prendendo YouTube Italia Che forse Avrai notato anche tu C'è la filosofia Nella creazione Di contenuti Che abbiamo qui Rispetto alla filosofia Che hanno in inglese All'inizio del video Ti ho parlato Di come ci sviluppiamo Nella nostra bolla Beh per questo motivo Anche a riguardo Della creazione Di content In parte Ragioniamo in modo diverso E ciò sia Lati negativi Che positivi Essendoci relativamente Meno contenuti Di determinati generi Tendono anche ad esserci Meno creator Più come posso dire Di riferimento In determinate nicchie Per esempio Mettiamo Blink È il tipo Che fa video di pc Oppure Twinner È quello del commentary E così via C'è ovviamente Non ci sono solo loro Ci sono anche altri creator Potete dire che io Anzi meglio Anzi meglio Però tipo Cioè Non lo so Io non so ad esempio Com'è se la viva Power Perché Power Magari Ti che ne so È il primo È il più È il più guardato Però tipo Il decimo Nella lista Dei canali di gaming È obbligato a fare Quello stesso tipo Di contenuto Cioè Aprire Call of Duty E fare delle partite Oddio È strano È strano Non è paragonabile Secondo me Con l'intrattenimento Vario Non è paragonabile Power sta facendo Un podcast però Eh vabbè Ma per forza Ti devi evolvere Per forza Ti devi evolvere Se no Se no Ciao Se no ti senti La La L'ansia che improvvisamente Il tuo canale faccia Ma vi posso nominare Vi ricordate Jelly Tipo Jelly si chiamava Jelly Lui Jelly Jelly Questo qua Era uno Dei canali Che io Ho più Guardato Da quando Ero piccolo Ci ho guardato Un sacco di video Di questo canale Gaming 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 Adesso si è ripreso Un po' con le visual Però considerate Che questo era Uno dei canali Che faceva competizione A PewDiePie Con video da 24.000 visual A video 20.000 E altro Boh Non lo so Chissà come se la vivono A livello di ansia Perché voi dite Vabbè Morto uno youtuber Te ne Ne inizia a seguire un altro Capito C'è il nuovo Jelly Però dico La persona che è Jelly Come si vive Questa cosa Cioè è strano Non lo so Vabbè Levi Ora sta in pensione Grazie del Prime Scusate Oggi sto facendo Dei discorsi Troppo Complessi Più comparazione Tra essi E verso Creator più piccoli Che stanno cominciando E c'è anche Molto di più La cosa del Eh ma tu hai copiato Da questo tipo E lui ha copiato Da quell'altro Eccetera Cioè su youtube globale Sicuramente in parte C'è questa cosa Ma ci sono così Tanti contenuti Che è molto più Normalizzato Che più youtuber Abbiano idee simili Per il loro video Cioè posso tranquillamente Capire Che uno youtuber Che incula lo stile Ed i contenuti Di un altro Sia sbagliato Ed è giusto farlo notare Ma allo stesso tempo Noto molto di più Che qui c'è questa Grande tendenza A cercare un po' Di creare Internet drama E dire Tu hai copiato Da questo O quello E quella copiata Da questo Eccetera Quindi Il verdetto finale Youtube Italia È una merda Beh Sì e no Detto questo Ci becchiamo In un prossimo video Seriamente Credo che No no In realtà Il discorso di copiare Io lo vedo su tiktok Sembra che io Mi accanisca su tiktok Però Tiktok è veramente L'unica cosa Fuori dal personaggio Che proprio io Nella vita normale Di Andrea Odio a morte Lo sapete Cioè credo che Quello Riesca a trasparire Molto bene Al di là del contenuto Perché su tiktok C'è questa cosa Del copiare Ok Loro lo spacciano Come trend Perché dire copiare Sembra brutto No Persone che fanno Lo stesso identico meme Stesso video Di dieci secondi Con stesso audio Stessa scritta Solo con la loro faccia Capito E tu vedi Apri un audio E vedi quel meme Replicato diecimila volte Quello per me è copiare Spacciato come trend Ok Freebooting Spacciato a trend Questo qua di youtube Ovvero Prendere la roba Però Rielaborarla Con il proprio personaggio Rielaborarla Facendo un contenuto Che abbia alla base Sì quell'input Ma che poi sia diverso È già diverso Ed è possibile anche Perché su youtube Hai dieci minuti di tempo Per rielaborare un video Su tiktok Hai dieci cazzo di secondi E devi spiegarmi Come dieci cazzo di secondi Possano esprimere una persona Scusa Su una scala da una dieci Sia un sei e mezzo È ok Ma credo che Considerando che qui Le cose tendano ad arrivare Un po' dopo Ed ho anche notato Che pian piano Si stanno vedendo Sempre più creator Di versi esplodere Credo sia finalmente Sul punto di fare un salto E migliorare Con nuove wave Di contenuti Speriamo solo che accada Oppure la mia home Rimarrà in totale inglese Per sempre E detto questo Ci becchiamo Tra 46 anni 7 mesi 4 ore E 12 secondi Bye Allora Nate Bel video Forse Secondo me Questo qua È un po' più deboluccio Rispetto agli altri Ti dico Rating dei tuoi video Il declino dei mates Incredibile Anche gli youtuber Ti stanno manipolando Molto bello Twitch sta generando Il migliore youtube kids Ha una crisi d'identità Ma anche il ridicolo stato Degli youtube shorts Questo Forse è un argomento Troppo grande Per parlarne in 8 minuti Secondo me Questo qua Tipo una live Di un'ora e mezza Però si Cioè capisco Che in 8 minuti Sia difficile Da sintetizzare Comunque secondo me Rimane un top video Non ho detto che è una merda Ho detto che Il rispetto agli altri È leggermente più debole Ma perché? Perché dura solo 8 minuti Però minchia 20 minuti di commentari Così con sto editing Penso che ti saresti sparato Cioè hai messo anche un mese Per farlo Quindi madonna Ti voglio bene Nate Allora Passiamo avanti al Next videos Next video di oggi Intanto grazie Basta Allora il prossimo video di oggi È il nuovo video di Chalessart 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 Che È uno youtuber Che io amo Lo adoro Non ci posso fare niente Io lo Mi fa impazzire Dura 6 minuti Vediamo che cosa ha di parlare Cioè non mi interessa niente Degli animali Dell'evoluzione Non me ne frega niente Però questo video lo guardo Perché lui è bravo Spiegami sta cosa I pipister e i vampiro Si nutrono di sangue E fin qui tutto normale Circa Solo che Ne serve un sacco Se passano 3 giorni Senza se le cazzare Rischiano di morire Ma spesso Non riescono a trovarlo Entro quel tempo Oh no Moriranno tutti E invece no Lo condividono Oh Spiegami sta altra cosa È comune fra vari uccelli Che una volta cresciuti Non se ne vanno di casa Per farsi un nido proprio Anzi Aiutano i genitori Nel prendersi cura Dei loro fratellini e sorelline Delle nidiate Delle stagioni successive Questi sono esempi di Alunismo Io lo adoro L'editing è figo Una cifra Ma scusa In termini evolutivi Non dovrebbe avere senso Avere più risorse per sé Avere più figli possibile Questo è il motore Che fa girare il mondo biologico Fanculo tutti gli altri no? Come mai allora L'altruismo si è diffuso In alcune forme di vita Lo spiegherò con I figli Se faccio un Figlio Questo figlio sarà il contenitore Dei miei geni Per la generazione successiva La differenza È che ne avrà solo la metà Perché l'altra metà È della fortunata Che si godrà tutto questo Se ciccettino Se ciccettino qua si trova In imminente pericolo Magari Ragazzi Io devo scrinnare ciccettino Se ciccettino Cioè questo Questo è ciccettino Ragazzi Io devo scrinnare ciccettino Una delle cose più belle del mondo Cioè io baserò La mia intera personalità Dei prossimi mesi Su ciccettino Cioè guarda C'ha gli occhi storti Ciccettino Bellissimo Grande ciccettino Qua si trova In imminente pericolo Magari circondato Da qualche schiavo Di uno schema piramidale Che gliela vuole intortare Qualunque genitore Avrebbe una spinta A intervenire E sacrificare Eroicamente la sua vita Per salvare Il sacchetto Dei rimpianti successore Se mi sacrifico però Le mie probabilità Di riprodurmi sono zero Perché sono morto I necrofili poverini Vogliono aiutarmi Ma non Era davvero necessario E Necrofilia Però Disegnando gli esseri umani Come i necro Non è così che funziona Amici miei Vi ringrazio per lo sforzo Non dovrebbe essere Conveniente per me Invece è un comportamento Che è stato selezionato Oddio questo è un bel tema C'è necrofilia Tra gli animali? Boh Oddio E' anche probabile Perché non hanno morale Oddio Però loro non lo fanno Per divertimento Oddio Oddio Voglio vedere un video Di Charles Sulla necrofilia Tra gli animali Le cose che vediamo E' vero i pinguini Facevano Si accoppiavano Con i cadaveri Degli altri pinguini Oh mio dio Sono così carini Com'è possibile I nostri corpi Sono tutte determinate Dai geni Che interagendo fra loro E con l'ambiente Fanno esprimere Dei caratteri precisi Se un tratto è vantaggioso Si può misurare La sua vantaggiositezza Usando il concetto Di fitness Ovvero Il successo riproduttivo Se una caratteristica Ti rende facile La sopravvivenza Sei fit Se ti permette anche Di riprodurti Hai una fitness Ancora più alta E se i tuoi figli Riescono a riprodursi E tramandare Il tuo carattere Sei il giga Sacrificare Perché sapeva Che sarebbe Sopravvivere No Cioè credo che Là è una questione Di istinto E che quindi Di conseguenza Sopravviva Perché i geni Non lo so ragazzi Credo sia un discorso Distinto Perché gli animali Non Ha capito una cosa Parla della natura Più sono imparentato Con qualcuno Più evolutivamente Mi conviene Spendere energia Per aiutarlo I figli sono L'esempio emblematico Di questa convenienza Ma la cosa Si applica anche A tutti gli altri Spendere energie Per mio fratello Se può fa Al 50% Dei miei geni I suoi figli Avranno una parte Del mio DNA Anche se non gliel'ho tramandato Io direttamente Finire sotto un autobus Per mio cugino Non è un problema È come se io Non morissi Al 100% O meglio È come se io Mi riproducessi In percentuale Riprodursi in percentuale Cioè riprodursi in percentuale Io la vedo Tipo è come se Mi staccassi un dito Prima di morire E tu te lo conservi In tasca banalmente Sta cosa Non so come visualizzarla Sinceramente Salvare uno sconosciuto Invece non conviene Più di tanto Probabilmente Non siamo imparentati E non abbiamo Molto in comune Cioè mettichelo aiuto E poi mi dice Che l'animazione È solo per bambini Colpa al culo La prossima generazione Vedrà tramandati I geni testo scemo E non i miei Io verrò dimenticato Ma bisogna considerare Anche Quindi è una cosa Proprio della natura Questo Il fatto che Gli animali Non si aiutino a vicenda Ma solamente Se ci sono i geni Quindi è anche Un discorso Penso di odori Ormoni E altro Che boh Che cazzo ne so Tipo quando si Si odorano E poi fanno Grazie Lollo Del TGX08 Per il Prime Che tutto quello Che c'è in mezzo Individui che non sono Strettamente imparentati Ma non sono nemmeno Degli sconosciuti In queste sfumature Di parentela Si buttano tutte Quelle bestie Con stili di vita Più o meno sociali Ci stanno un sacco Di modi Di aggregarsi Con i propri simi Invece La formica Pure troppa collaborazione Il gatto invece Ha sociale di merda O con altre specie E ci sono altrettanti modi Per essere altruisti Per il proprio tornaconto Ora vabbè Non è che prima di compiere Un gesto altruistico Gli organismi si mettono A calcolare Se è un cugino Abbastanza vicino Da meritare di essere aiutato Nel tempo Con le condizioni giuste Alcuni di questi comportamenti Hanno fatto avere più successo A chi li intraprendeva Rispetto a chi non lo faceva E la selezione naturale Li ha premiati Per capire se l'altruismo conviene Si può usare Ma mo non te ne uscire Con la solita storia Uh no Oddio Già mi hai perso Oh 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 Io non ci capisco niente Formula davanti Io userò questa scusa Per non sforzarmi di capire Ok te la faccio Ho adorato la 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 cucinella Che si è messa Tipo a A ballare Vedere velocemente Così non ti spaventi E questa è la teoria Della Ok te la faccio vedere Velocemente Così non ti spaventi E questa è Ok te la faccio vedere Velocemente Così non ti spaventi Wow Che cazzo diverso era Da dove gli è uscito Vicenza Ha fatto bene E questa è la teoria Della selezione parentale O kin selection La fitness È un concetto Mega fucking importante Un sacco di comportamenti animali Possono finalmente Essere spiegati così Le colonie di insetti Come api e formiche Sono tutte composte Da sorelle La morte di una Per la sopravvivenza Dei suoi geni Nelle altre È il motivo Per cui sono così Rilassate All'idea di schiattare Per il bene della colonia Ok Wow Intanto la La formica Gigachad È pronta a morire In qualsiasi momento Quindi la La tranquillità di morire Loro ce l'hanno Perché sopravvivere Sono tipo i cristiani No che dicono Non mi importa di morire Perché tanto vado in paradiso No No non è così Però loro dicono Vabbè non mi interessa di morire Perché tanto Io sopravvivrò Nella Nella mia specie Però non sanno Che quando sopravvivano Nella loro specie Loro non ci saranno Quindi vivranno nel buio Eterno cosmico E non in un paradiso Eh cristiani La femmina del ragno Stegodifus lineatus Dopo che i suoi bimbi Escono dalle uova Si lascia lentamente Divorare da loro In modo da assicurargli L'energia sufficiente Per sopravvivere COSA Eh sì cazzo Io non lo farei Ma paradossalmente La sua fitness Aumenta facendosi Mangiare dai figli Così facendo Aumenta anche la loro fitness Perché hanno più sostentamento Di chi non mangia così Mi è piaciuto Il commento fuori luogo Del io non lo farei Eh beh Intanto tu non puoi Partorire dei ragni In secondo luogo Io non lo farei Tanto alla nascita E loro ingrati Se ne escono di casa Senza nemmeno dare una pulita Un momento Ma quindi Anche il maschio di mantide Oh mio dio Cazzo La sua fitness aumenta Se si lascia scarnificare La testa dopo la copula La femmina Avrà più energie Da trasferire alle uova Se se lo magna Addirittura Le femmine che consumano Il ragazzetto Fanno più uova Rispetto a chi salta il pasto Dando più eredi Al defunto eroe Porca puttana Ficchissimo E non tiriamoci fuori Da sta storia Bricconcella creatura Fra i primati Chi si aiutava spesso Lo faceva per legami sociali Motivo per cui Ancora oggi Noi proviamo affetto Per parenti e amici La socialità È una strategia Di sopravvivenza Della nostra specie Che si è mantenuta Fino ad ora L'amore Non viene screditato Dall'evoluzione Ma trova il suo posto Fra le caratteristiche Vincenti Che ci hanno resi degni Di continuare ad esistere Tiè Se vuoi approfondire Ti consiglio Non uno Ma ben due Libri Il primo è Il comportamento animale Di Aubrey Manning E Marion Stamp Dockins L'argomento ovviamente È lo studio del comportamento Degli animali L'etologia E spiega tante belle cose In modo veramente chiaro Secondo me È un saggio Ha una copertina Da tipo Bancarella Dei tizi Indiani Non so Cioè indiani d'America No Tecnico Però è figo Se invece vuoi Che ti venga ficcato in gola Un salamone divulgativo Farcito proprio Di esempi sulle cure parentali Ti consiglio Il coccodrillo Ha il cuore tenero Di Storie di genitori E famiglie straordinarie Dal mondo animale Oddio questo sembra bellissimo Ci sono dei pinguini Utilissimo Per capire quanto La fitness Porti a comportamenti assurdi Infine c'è una cosa Che volevo dirti Ciao Io adoro I Sti video Sono Sono La vita Sono la vita In sette giorni 50k Oh Onestamente Wow Veramente bello Ciao Alessart Complimenti Video Video top Un altro Ti supplico Eh Li abbiamo visti Io l'ho visti tutti I canali Cioè i video di sto canale Non posso guardarne altri Mi dispiace Vabbè Andiamo avanti Con un prossimo video Questo si chiama Lo spaventoso mondo Del vtubing Di Gennaro is real È un video di 600 visualizzazioni Che ho trovato in home Tecnicamente dovrebbe parlare Del Dell'orribile mondo Dei vtuber O delle vtuber Io sono stato Io sono stato una vtuber Infatti Posso confermare O Non confermare La cosa Però in generale Mi ero dimenticato La chat Ciao Leo Se tramite la fitness Ci riproduciamo in percentuale Ciò vuol dire Che se salvo Il mio simile Perdo una percentuale Della mia verginità Ecco vedi Perché io No no Leo Che cazzo dici Ma non hai capito No 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 Non hai capito niente Vtubers Alcuni di voi Sapranno già A cosa mi sto riferendo Vtuber Foto di un Di un bodypill Altri non hanno La più pallida idea Di cosa stiamo andando A parlare Ed altri ancora Si limitano A deridere Questo mondo Senza però Averlo mai Realmente toccato Con mano Se salvo il mio fratello Perdo il 50% Della mia verginità Tecnicamente È il concetto Di verginità Che ce l'abbiamo noi Vaffanculo Fai sentire l'audio Che mi hai mandato prima Ah sì Prima ho mandato Un audio ad Alice In cui Ero in bagno E ho registrato questo Giuseppe A posto Possiamo continuare Io fino a poco tempo fa Facevo parte del terzo gruppo Ma poi mi sono ricordato Che un'opinione Richiede un minimo Di conoscenza Dell'argomento Altrimenti Si parla di semplici parole In libertà Non mi ricordo Che ha detto sta frase E da quel punto Mi sorgio un dubbio Non è che tutte le cose Che ci vengono sempre dette Sulle vtuber Sono tutte farsità E se quelle persone Avessero torto E dal dubbio E scaturita curiosità Da qui è poi derivato A sua volta L'errore più grande Che abbia mai fatto Nella mia dannata vita Sì poi ho confermato Che la maggior parte Delle voci Sono vere Perché Loro si espongono Capito Non stiamo parlando Di una setta O di dinosauri Che quindi Possiamo studiarli Solo dai fossili No è una cosa Molto tangibile Basta che cerchi Vtuber Federica Perché l'ho letto così Federica Grazie del Prime E anche a Lollo Dei Tgx08 Che ti ho ringraziato prima Ciao ragazzi Benvenuti Ho passato gli ultimi Quattro mesi A spaccarmi Di contenuti Di vtuber Letteralmente Bombardando I miei ultimi Due neuroni Rimasti Così non dovete Farlo voi Ed oggi Andremo ad analizzare Assieme Questo fenomeno E la sua Intricata storia Per rispondere A una semplice domanda Le vtuber Sono davvero Il male BBC News Da nuclearizzare Top 5 vtuber Su cui ti sei masturbato Poldo Tu ha Tua mamma No non è vero Tupac Mi ero perso Lion vtuber Al numero uno Dei top 5 vtuber Su cui mi sono masturbato Abbiamo Lion vg Questo mi rende Proprio come voi Vi vedi questi esserini? Ecco Loro sono Il nostro radiante Magnifico E terribilmente Spaventoso E agonizzante Futuro Vubers Un fenomeno Che sta conquistando Tutto il dannato mondo Ben 15 dei canali Che ricevono più donazioni Tramite super chat Su youtube Sono vtubers E si Arriveranno anche in italia Che ci piaccia o no Quindi meglio essere preparati Per quando accadrà Come è possibile Che un cazzo di personaggio 3d Che fa le vocine Da anime Sia così popolare Riserva così donazioni Io non lo capisco Io non lo comprendo È fuori dalla mia comprensione base Forse perché Molte cose Se non empatizzo Non riesco a comprenderle Certo forse dovrei Empatizzare Nel fatto di essere Un dodicenne Brufoloso Maledettamente orni Oppure al contrario Un trentenne Brufoloso Maledettamente orni Però purtroppo Non riesco A empatizzare Con queste cose Quindi non trovo Interesse Nel guardare Un cazzo Di personaggio 3d Che fa Numero uno Nessuna Numero due Guraguar Mentre gioca La switch ring fit Non so cosa sia Ecco ad esempio Perché fidatevi Succederà di certo Ma cosa sono Le vtuber Io direi di partire Con una definizione Molto veloce La parola vtuber Sta per virtual youtuber Termine in realtà Abbastanza datato E specifico In quanto ormai Si inizia a parlare Molto più di v-streamer Parola però Quasi inutilizzata Che volendo essere sinceri Suona anche molto peggio Tutto viaggio che interessa A noi è quel virtual Presente nel Ok non la cercherò Questo vuole evidenziare Appunto la virtualità Del creator in questione Che non va ad utilizzare Una webcam Ma un vero E proprio avatar virtuale Ed attenzione Non dei filtri Ma dei veri E propri avatar Realizzati in un Qualsiasi formato digitale E Perché Sedia non è un vtuber Più un pngtuber No è un mp4tuber Grazie l'elixu Grazie per Vi suonare la video beta Hai rovinato tutto Grazie del 29esimo Tecnicamente nella descrizione Rientro anch'io E La cosa mi spaventa Tu sei un pngtuber Non lo sapevo Solitamente queste vtuber Hanno anche delle loro Per calarsi ancora di più Nel personaggio come La magnetetrice In carne ed ossa Un'aliena Venuta a distruggere il mondo Che però è diventata Una ragazza gatto E abbiamo addirittura Esperimenti biologici Finiti male Wow che figo E che mi dici di quella piccoletta Con i capelli rosa e le corna Ah intendi Iron Mouse Lei è satana Letteralmente basta Ci sono vtuber Di ogni so Io ho visto il gabibbo Comunque là in mezzo Non so Porta dal vostro spruzzino Di quartiere Fino a Tuttavia quando pensiamo A qualcosa del genere Una ragazza anime Con i capelli colorati Che dice Ara ara Mentre fa saltellare il modello Per creare quell'effettino Che va ad attivare i neuroni Dei fan E la voce picciata Ebbene queste Erano le tette Che giampavano Tipo Che È la loro forma Più comune Infatti il mercato È attualmente Invaso Da ragazze patite Di anime Che per la maggior parte Fanno battute A sfondo sessuale Specialmente l'ultima Quanto pare le persone Adorano quella roba E dopo aver visto Una clip Di una vtuber Che parla di come Abbia soddisfatto I suoi desideri Con un cacciavite Nel cuore della notte Ed un'altra Che ha usato Un telecomando Della Wii Posso dire Di aver visto Di tutto Ed è Madonna poi hanno Tutte la stessa voce Diobò Shaili Lali Mia madre Io scrino questo messaggio Lo mando a Clara Leo Io ti rovino Io ti rovino Io poi gli dico Che cosa cerchi Cioè Non è possibile Cioè Hai una certa età Hai una responsabilità Hai una relazione stabile Da mantenere Smettila di cercare vtuber Dessert mi chiesto più volte Cosa sto facendo Della mia vita Non potevo tipo Iniziare a droga Scusate ragazzi Ormai c'è il momento pausa Mio papà mi ha mandato una foto Mentre è con il mio gatto Dopo aver cercato Che il mio gatto sta bene Possiamo continuare A Darmi come le persone Della mia età Tutto vi ho scoperto Che per mia fortuna Quello è solo il peggio Vedendo un po' in giro Ci si rende Bro ti canto Cosa hai detto? Bro io ti canto Tutta Ochame Kinu A memoria Ecco appunto Sende immediatamente Conto che alcune di queste persone Hanno dei talenti magnifici Ci sono quelle incredibilmente Bravi a disegnare Quelle che cantano Manco fossero angeli Scesi direttamente dal cielo Ed intrattenitori fenomenali Ci sono pure Le voice actor Dei tuentai preferiti Ti dice qualcosa il nome? Cotton tail? Not tranquilli Neanche a me In questo mondo C'è letteralmente qualcosa Per chiunque Ed il Vtube Mi permette di eliminare Tutti i limiti Di ogni sorta È una pistola Vabbè Dicevo Anche degli entai Fico Ma quindi loro Interpretano un personaggio Che fidati Se il mondo reale Ha dei limiti Un software di modellazione 3D Non ne ha E forse è proprio quello Il problema Elfi Orchi Zombie Una balena Limone Per qualche motivo E già che ci siamo Facciamo un gioco Se potessi scegliere Di essere qualunque cosa Ma qualunque cosa Io vorrei essere Un Ehm Scolabottiglie Non so se hai presente Aspetta Scolabottiglie Questo Anzi Anzi in particolare Lo scolabottiglie Di Duchamp Ecco Me l'avevo fatto vedere Alice Qualche ora fa Vorrei essere uno Uno scolabottiglie Immaginate un Vtuber Con la mia faccia Con la mia voce Che fa tipo Ciao Aspetta Dov'è Ok fammi fare così Bam Lo schermo Perfetto Ehm Ciao ragazzi Sono Poldo Bentornati in live Allora No Scusatemi lo rifaccio bene Ciao ragazzi Sono io Sono Scolabottiglie tv Vi do il benvenuto Nella nuova live di oggi Allora Scolini Siete pronti per la live Certo che siete pronti Scolerò il sangue Dai cadaveri Delle voce Dei vostri genitori Ciao ragazzi Basta Io voglio tornare a essere io Ok La mia faccia Mi piace Va bene Ok Basta Cosa sceglieresti E perché Sembra una presa in giro a sedia No sedia è bravissimo Io sono uno scolabottiglie Proprio una ragazza anime carina Con sembianze demoniache Che risucchia le anime Degli spettatori che guardano Le sue stream No davvero Perché ce ne sono troppe Specialmente l'ultima parte Le persone trovano Davvero Eccitante l'essere private Delle loro anime Da una ragazza No Ok ora che ci penso Potrebbe effettivamente Esserci un fetish Su sta roba Quindi come avrete capito Le vtuber sono Dappertutto Si nascondono tra di noi E sono nelle nostre strade Nei muri di casa nostra Nell'acqua Che beviamo odio E vogliono solo una cosa La tua sub-tier 3 Ma come siamo arrivati a tutto questo? Come si sono diffusi così tanto? E perché sei ancora in casa mia? Tutto inizia negli anni 2000 Quando un uomo di nome Ken Mochi Deki si chiede Oh Ma se i computer potessero cantare? No sta parlando di Hatsune Miku La Yamaha pensò Mi Ma non è una bella idea E quindi si svilupparono Vocaloid Un sintetizzatore vocale Che permette di creare vocals Per le canzoni Senza nemmeno aver bisogno di cantare E la reazione delle persone Fu più o meno Una Vocaloid È Una Una canzone Aspetta Io ero convinto Che Hatsune Miku Come Vocaloid Non esistesse Perché fosse E Vabbè Un avatar Ma ci fosse una cantante dietro Quindi le vocals Non sono vere No è un datapack Ragazzi ma perché io lo scopro nel 2023? Cioè io come ho fatto a vivere tutta la mia vita Senza sapere questa cosa? Ma buongiorno Ma io È un programma di sintetizzazione Io pensavo fosse il nome di queste cantanti Che utilizzavano un personaggio Noi i concerti ho un hologram Ragazzi io Sono sempre stato convinto Che fosse qualche stronzata Tipo sai i Daft Punk Che fanno le vocals in quel modo Ragazzi ma vabbè Ma io come facevo Cioè a sapere una cosa del genere Sembra molto Tipo sai come i Gorillaz O come i Daft Punk Che fanno le... Boh Stiamo avendo idea Perché c'erano le tante canzoni Fatte con la voce di Azzone Mico Quindi Ci sono Tante canzoni Azzone Mico Songs Best Accune Azzone Mico Oh mio Dio Quindi ci sono le official E le unofficial Tipo Io questa la ballavo su DDR Chec Eh io la maggior parte di 6 canzoni Le ho sentite su DDR Scusate Che cosa sto facendo Mi sto rovinando la carriera Wow figo Ma a me che me ne frega Scusa Il progetto non venne preso molto seriamente E da allora potreste starvi chiedendo Ma scusa Se non ha avuto successo Perché la mia home di Youtube è piena di Vocaloid e di Loli che bevono vodka mentre cantano faccetta nera Beh questo è perché Kryptium Future Media nel 2007 ebbe un'idea incredibile Madonna fra l'editing è figo ma ci sono troppi effetti Che era un pacchetto Vocaloid da associarlo al design di una ragazza anime di 16 anni Il suo nome era Azzone Mico Io sono andato a vederla su internet Azzone Mico E sì credo che l'età del personaggio abbia avuto un certo impatto sul suo successo Azzone Mico non è reale È solo un Vocaloid a cui è stato associato un personaggio modellato in 3D Eppure è diventato una pera e propria celebrità Merch, pubblicità, meme Azzone Mico era dentro qualunque cosa Ragazzi io ho vissuto la mia vita pensando che Azzone Mico fosse Sì un personaggio ad armare con un team dietro Tra cui una persona che cantava Ma invece anche la voce è sintetizzata Cioè no assurda questa cosa Assurda I giapponesi hanno imparato due cose Uno, gli artisti della Rule 34 non hanno limiti davvero E due, era possibile creare un fenomeno culturale di dimensioni non indifferenti Senza nemmeno aver bisogno di una persona che ci metta effettivamente la faccia E ciò ha i suoi vantaggi Tra cui la reputazione del personaggio Azzone Mico è un modello 3D Non è capace di intendere e volere perché non è un essere vivente Non può fare tweet trazisti Non può evadere il fisco E non può essere accusata di aver fatto la blackface in piazza Duomo di domen- Eeeh Vabbè, vabbè, dicevamo Comunque sì, effettivamente non può essere cancellata azzone Mico Vedi che precisamente alle 5 e mezza di pomeriggio E non solo è un qualcosa di intoccabile Ma anche più economico di una persona vera E allora le persone si sono dette Hmm, ma sai che forse non è una cattiva idea E da qui nasce Kizunai Riconosciuta come prima VTuber in assoluto Che portava video strani su YouTube E anche lei va alla grande Apparirà in televisione e farà addirittura una collab con PewDiePie Ma esattamente come Azzone Mico Kizunai non è reale Ed anche se questa volta il personaggio viene doppiato Beh, ci sono tipo 3-4 doppiatrici Probabilmente rinchiusi in un gulag cinese Che fanno a botte per un salario minimo Dopodiché arriva Hololive Pronto a inondare il mercato con ragazze anime Hololive Iniziare alla conquista del mondo L'ho già sentito ma non è... Ragazzi, che bello essere così distanti da sto mercato di anime del cazzo ...di una branca inglese invadendo anche l'occidente In particolare con Gargura Che dovrebbe essere il canale YouTube con crescita più veloce in assoluto E poi arriva Niji Sanji pronta a fare esattamente la stessa cosa di Hololive Ma essendo coraggioso abbastanza da provare a creare dei VTuber maschi Staccandosi dai desideri carnali dell'utente medio Riuscendo addirittura ad ottenere un discreto successo Anche se vengono comunque messe in secondo piano dalle ragazze anime Era abbastanza scont... Ma sì, ma io non ho mai visto un YouTuber uomo infatti Bo, Foxy grazie del Prime Luigi grazie del Prime E chissà quanti uomini sono VTuber Ma tipo, live come fanno a fare le voci? Cioè, sintetizzatore... Ma live com'è? Cioè, c'è un tizio che scrive tipo con la tastiera E il vocalizzatore lo legge E i filtri Quindi è una webcam che capta... Ah, ok, no, aspetta Quindi c'è qualcuno che sta streammando Cioè, che con una webcam capta i movimenti E quindi la bocca che si muove e la testa Sono effettive persone vere che lo fanno Come ho fatto io? Ah, ok, pensavo che io avevo fatto la modalità tipo scema Esatto, è certo Sì, sì Ok, no Mi fate Atsune Miku Che la voce non è vera Il personaggio non è vero E poi si passa così ai VTuber È diverso Quindi c'è una persona dietro il VTuber Non è come Atsune Miku Ma è nato come per Atsune Miku E dal giorno d'oggi letteralmente chiunque Può comprarsi un modello 3D o 2D che sia Oppure farlo anche da sé Inserirlo in un software che traccia i movimenti del volto E bam, sei un VTuber adesso Cosa? Non mi credete? Ok, sfida accettata Signori, diventerò una VTuber per un mese Quindi iscrivetevi per non perdervi questo fantastico esperimento incredibile E se il mercato veniva già inondato prima dalle agenzie Adesso è letteralmente saturo Non si capisce più in niente È un delito tra VTuber indipendenti, agenzie E visciogio che al quanto pare è sì Un'agenzia amati VTuber indipendenti Non chiedetemi com'è possibile mettere insieme le due cose Ma visciogio c'è riuscita in qualche modo Ed il massimo picco di espansione di queste serine Arriva nel 2020 Perché? Ora Siamo rientrati chiusi in casa Oh mio Dio quanto è realistico questo Che ansia Siamo stati richiusi in casa E ciò che adottoriano farti Per questo fenomeno Spiegare la voce però erano reso Quindi è come un Covid Ora però torniamo un attimo Sui nostri passi Perché c'è tutto questo odio incondizionato Nei confronti di virtual youtuber I problemi che vengono sempre portati a galla Sono relazioni parasociali Quarantenni che si fingono studentesse del liceo Lo riesco a non sentire gli swash Sto impazzando Sì è vero C'è la Sessualizzazione continua dei contenuti Per non parlare del fatto che la tua youtuber preferita potrebbe tranquillamente essere un uomo di mezza età con un voice changer E chi l'avrebbe Era letteralmente quello che stavo per dire Era letteralmente quello che stavo per dire Potrebbe tranquillamente essere un uomo di mezza Era letteralmente quello che stavo per dire Shia e Lily Buona intrattenitrice Devo dire buona intrattenitrice Ma è quella del cacciavite Quindi potete immaginare il livello diciamo Milky Devo Madonna Che cazzo di davanzare Oh e poi c'è questa Quella è una dei miei preferiti Project Melody Questa è iniziata tramite video Peggy18 Letteralmente lei con un software per tracciare i movimenti del corpo Che faceva quelle cose che si è soliti a vedere su Ehm Siti Aspetta cosa? Nero arancioni diciamo Questo mondo ha improvvisamente iniziato a risucchiarmi A mostrarmi cose di cui non credevo gli esseri umani potessero essere addirittura capaci Ed ogni volta che pensavo di aver raggiunto il fondo Riuscivo ad andare ancora più in basso Ed ad un certo punto ho scavato così tanto Ma così a f... Ragazzi i veri oggi si ricorderanno il video di Froze di Parliamo di videogiochi che si scopo una bambola I veri oggi si ricorderanno di quel video Gli altri diranno cosa ha fatto Froze? Il fondo che sono venuto a sapere di un fenomeno non di nicchia Di più Le VTuber italiane Non sapevo esistessero Vi giuro non avevo idea E dobbiamo solo ringraziare il Dio Che non abbiano ancora scoperto di poter pubblicare highlights editati su YouTube Perché se no era alla fine Io ve lo dico I miei preferiti sono Phoenix Un canale in cui sono incappato quasi per sbaglio Vedendo una clip ricaricata su YouTube Che è un canale molto caruccio Strana l'interazione con la chat devo dire Ma molto caruccio Ah e poi c'è Suirito Questo lo adoro Mi è apparso in ommo a caso Lo apro aspettandomi una ragazza che chiede le sub E invece mi ritrovo questo omone con un avatar da ragazza che sta insultando lì Oddio questo sembra bellissimo No comunque Froze ha fatto un video dove parla di questo gioco giapponese VR Che in donazione ti dà anche tipo una roba dove va infilato il Il Pipo Ed è un gioco porno per VR Ecco lui l'ha provato Però ha pubblicato il video in un posto a parte Che era il suo sito web Ovvero parliamo di videogiochi.it Mettendo il link e scrivendo Questo è un contenuto per 18 Quindi se siete ancora fortunati vi beccate il video di Froze che si scopola a bambola La verità della community italiana di qualunque cosa mentre gioca a GameCube Custom made 32 E sono rimasto piacevolmente sorpreso Questo uomo è un mito Uno degli streamer a mani basse più intrattenenti dell'ultimo secolo A me Genshin non piace Non interessa minimamente Ma lui è riuscito a tenermi attaccato allo schermo Come che si chiama Su A me Genshin Su Hirito Su Hirito Vabbè streamerà su Twitch Su Hirito No è live adesso ragazzi Io non ho parole Non lo sento Credo che Sto controllando una cosa Eh boh Dopo lo raidiamo Dopo lo raidiamo Mi toccherà Vabbè ragazzi facciamo una cosa allora Per un attimo a togliere quell'impostazione Bellissimo Bellissimo E Rage Genshin non piace Non interessa minimamente Ma lui è riuscito a tenermi attaccato allo schermo È un personaggio incredibile Ma per quanto vorrei stare qui A testare le lodi di questi due individui Parliamo di quelli importanti Quelli che contano veramente Quando si parla di VTubing in Italia Emergono due nomi Lalla Waffle E Cappuccino Chan E per carità Non aspettatevi che sa cosa Non sono canali grandi Anzi Hanno 70 viewer Mai di circa È raro vederli andare più in alto A livello di spettatori E sono i massimi esponenti italiani Questo giusto per farvi capire Quanto meglio Che sia questo fenomeno in Italia Ma parliamo di questi due creator Che dite Lalla Waffle mi sta altamente antipatica Un saluto a Lalla Che segue sempre i nostri video E dovrebbe essere un apprendista strega Anche se il modello non lo dà tanto a vedere C'è un link di Facebook nella bio Wow C'è ancora qualcuno che lo usa Incredibile E poi c'è sta roba dei waffle pingui Che non ho capito Cos'è un waffle pingui? Andrebbe spiegato da qualche parte Non è molto chiaro Però da ciò che ho capito Riguardando le immagini È che un waffle pingui È un pinguino Con un cubetto di burro Oh mio Tiapissimo Ragazzi questa cosa deve finire Basta Ma come? Ma che Ma è bellissimo Ma non rompere le parole Ma guarda È spettacolare È bellissimo Cazzo di pinguino Comunque questa cosa Mi ha fatto venire fame Di Kinder Pinguini Cubetto di burro fuso sopra Ragazzi questa cosa deve finire Basta imburrare pinguini Hashtag Non imburro i pinguini Per fermare queste atroge No no Ok Basta dire cretinata Arriviamo a Cappuccino Cianpoi Questa mi sta già più simpatica Una voce strana Però le sue live sono carine Devo dire Sono colpevole di averne guardata Più di una Ed il modello è la versione ragazza Di Zubat Cioè Non c'è scritto da nessuna parte Non credo fosse nemmeno quella L'intenzione Però non riesco a non vederlo Orecchie e bocca Eh Zubat Basta Dice di creare tutti i tipi di illustrazione Figo Tutti i tipi mi lascia un dubbio Mi chiedo se concluda anche qualcosa che inizia per R E finisce per 34 Ma figo Apparentemente fatto modelli di 2D per metà Comunità italiana E poi Troviamo una citazione incredibile Il meme del bambino Che dice È molto lontana l'Islanda È vicino a Padova l'Islanda Citazione che mi avrebbe fatto ridere In una maniera incredibile Che avrebbe generato Il haha più assoluto nel mio corpo Se solo non fosse stata scritta nel peggiore dei modi possibili Di dove sei? Abito a Padona Padona Cos'è Padona? Forse in te devi dire Padova? Eh? Quella terra mistica vicino all'Islanda Comune imam La famosa Padona Islanda con i sassi e Babbo Natale Quella è Padona Non Padona E io gli ho dato Ci devo andare a suonare a Padona Ho detto Non è che questa abita davvero In una città di 10 abitanti Chiamata Padona E mo passo io per scemo L'ho cercata E l'unica cosa che ho trovato È un'associazione medica Della Pensilvania Ok Ho buttato 10 secondi Del mio tempo Che avrei potuto usare Per editare questa video Padona Per favore Se stai vedendo questo mio Sfogo di rabbia e cappuccino Correggilo ok? Ci vogliono 2 secondi Comunque Se siete interessati a questo mondo Ma non sapete uno straccio in inglese Beh Vi consiglio di farci un salto Sono canali niente male Però Non ci posso fare niente La mia vtuber preferita In assoluto È Poldo Va che bellezza Allora Parliamo di questa cosa Parliamo di questa cosa Voi sapete che io Non guardo i video Della Poldo TV Cioè Voi lo sapete Io li metto Ma non li guardo Proprio perché Voglio vedere Vi voglio vedere In live Con voi Io non avevo idea Di essere in questo video Ed 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 Entrarci così Dal nulla Però Non ci posso fare niente La mia vtuber preferita È in assoluto È Poldo Va che bellezza sopraffina Che ha cento Navole d'anno distinto Ma io mai ammesso La bozzol qua dentro Va che creator Talentuosa Per favore Prendimi i soldi Quindi Le vtuber Sono davvero il male? Beh No O almeno Non tutte Di certo È un mondo pieno Di insidi E drama E relazioni Parasociali Tutte cose in cui Evitare assolutamente Di cadere Ma se ci pensiamo Sono problemi che esistono Da sempre Di qui La chat Delle vtuber Pompopopopop La mia chat Ipiopopipi Anche il mondo Dello streaming tradizionale Non è che apri una heard stream Pensando Wow Qual creator Dall'ilare Personalità distinta Non vedo l'ora di scoprire In qual modo Provederà al mio Intrattenimento Madonna Che tristezza Questo argomento Non ne parliamo Oggi Penso più a qualcosa Del tipo Ok Per l'occasione Ho comprato Un bel pacco Di pringles Due spugne Un elástico E un guanto Di latte Che Stavo per dire perché proprio questi Poi ho detto ok ho capito Io sono Giovanni Mucciaccia e questo è Art Attack Questo mondo ha in serbo molte più sorprese piacevole di quante me ne aspettassi E ve lo dice uno che lo odiava alla follia Ci sono un sacco di creator che meritano di essere scoperti Anche se per trovarli a volte può essere necessario scavare un bel po' Quindi smetterò finalmente di fare battute offensive nei confronti delle VTuber? No non credo proprio Ma le Pringles vanno tolte prima di Bel video fra non ti conoscevo mi si è apparso in home 600 visual però questo video è editato bene Storytelling c'è migliorato il comparto audio Ci siamo 15 minuti di video molto scorrevoli Spero che il tuo watch time sia anche abbastanza alto Quindi mega complimenti ancora E next video di oggi Il prossimo video di oggi si chiama Indovina lo youtuber Vabbè dai Lo guardiamo perché è un È un po' che non guardiamo un video degli iNub nella pod tv E avevo voglia di vederlo perché non l'ho visto E quindi ho detto vabbè me li guardo tutti Questo qua me lo guardo con voi Si chiama Indovina lo youtuber Dai titoli dei video Mi sembrava interessante farlo insieme a voi Cioè è interattivo comprendere quali possibili titoli Bentornati in un nuovo quiz show Ligma grazie del quinto mese Grazie a Foxy del Prime e a Luigi per il Prime Oggi gli ospiti sono Camper e Leo Ma sono arrivato anch'io visto che L'ultima volta che ho registrato con Leo non avevo manco gli occhiali No è ancora tutto opposto Il format di oggi è preso in prestito da Poli Del Poliquid Show Pensavo da Poldo Se ero se ero menzionato pure in questo video Io diretto sta cavola Comunque se posso fare una piccola critica Mi da un po' fastidio Che ci sia uno spazio qui Non so se vedete il mio mouse Ok Questo non è un errore mio o altro Perché si vede tutto Credo sia un errore di come sia stato esportato il video Ora io voglio bene iNub e tutto quanto Però questa cosa qui mi da un po' fastidio Questa non lo so Sono pazzo Sono pazzo E per questo vado insultato Questo video magari sarà perfetto Però questa cosa mi da fastidio Adesso vedrò solo questo ragazzi Non ci posso fare niente Consisterà nell'indovinare uno youtuber Dai titoli dei suoi video Ve ne darò un massimo di 5 E voi dovete riuscire ad indovinarlo Tutto chiaro? Cominciamo Primo titolo Ecco perché non ho la patente Allora fan me Camper Tu sarebbe camper assolutamente Quante persone su YouTube Italia Sono famose per non guidare? Carmageddon Il problema è che sono in mezzo ai coglioni Se mi metto la webcam qua Quindi fatemi fare una cosa al volo Fatemi fare una cosa al volo Al volo Al volo Al volo Il mio youtuber Lo metto così perché Per i tipi di overlay che fanno loro Sono in mezzo alle palle Purtroppo Quindi facciamo così Così è più godibile Che dite? Che dite? Che dite? Selezionare il colore Pig screen Pig squeal Bomba Buona visione Dicevo Quante persone non guidano Su YouTube Italia E sono famose Per questo Io Perché c'è un meme E la seconda persona È FabiJ E volevo dirlo anch'io Sbagliato Ok Non è FabiJ Allora chi cazzo è? Ecco perché non ho la patente Boh Ce l'ha la patente però adesso Quindi Sì ma ci ha piegato tipo 20 tentativi Sì però aveva comprato l'auto prima Forse ha fatto un titolo Con lo stesso Può essere Con lo stesso scritto Cioè questo non è un titolo Che farebbe io Tobi Non è un titolo che Oddio È un titolo No nemmeno la Surry o altro Sì Penso proprio di sì E la cosa non mi torna allora Fede l'ha mai raccontato Perché non ha la patente Fede non deve raccontare Perché non ha la patente Comunque Chi cazzo potrebbe essere? Boh Fai la bet Power La sedia a due gambe Che c'è la sua ragazza Che guida un Q8 ormai Non lo so Era il video di presentazione della ragazza Ecco perché non ha la patente La iederà La iederà Chi cazzo non ha la patente? Guarda che tanti Non guidano eh Boh Leo Toys Ha 14 anni Magari non ce l'ha per quello No Prossimo titolo Vi parlo dei sogni Che vorrei realizzare Un sognatore Segreta Menki Sembrerebbe Non lo so Ma non è lei Ok Chiaramente le ho scelte i più forvianti possibile Human Safari Se non l'ho indovinata Il primo Grazie Sai fare il tuo lavoro Senza patente ma con tanti sogni No però Human Safari non mette titoli così Li mette tutti Cioè non in caps Vi parlo dei sogni Che vorrei realizzare La Sabri Game Vedo un altro Ho ucciso Babbo Natale Sicuramente Stormi No Stormi sono più tipo Oh my god 360 o altro Ho ucciso Babbo Natale Favigio Perché non l'ha tirato sotto con l'auto Con questi tre vi dico Però è impossibile Maurizio Berluzzo No Non lo so Vi sa un video da lui Ah ma tutti e tre Sono fatte dallo stesso youtuber Scusatemi Scusatemi E comunque Sono io? No Scusa ho riflettuto Comunque Quindi tutte e tre Sono video fatti da uno youtuber Fare che non abbia la patente L'hai mai visto guidare? Da uno stesso youtuber Io no Però era su circuito privato Quindi guidava le macchine d'epoca Sì Ma chi ci crede Che è la patente Maurizio Ha ucciso Babbo Natale Cosa può essere? Un video gameplay Su GTA Non hai ridotto il cerchio Esatto Tutti hanno fatto video su GTA Pronti? Vado Gestisco un ristorante di sushi Gioco stupendo Yotobi? No Forse ho esagerato Con gli indizi difficili Mi sembrano titoli di Dexter Ma Dexter ce l'ha la patente Questo è un gamer Tipo Gabby o altro L'impressione che sia Un game player Corretto Gabby 16b Faccia anche giochi indie Yotobi Games poteva essere Gabby 16b Un'idea ma I titoli così maiuscolo Diciamo che ha tanti gameplay caricati Questo youtuber Surry No Fuck Buona eh Era buona Ci stava tutto Surry non ha la patente Ma questo è Surry? Sì Fuck Deve essere Surry E gabby Eh sì 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 Sono i titoli di Fabi J e di Surry di un tempo Ultimo Vai Vittoria reale con un trick assurdo Nella nobile Exeterone No allora power Non è exeterone Non è exeterone Ciccio gamer No Ciccio gamer c'era la patente Ho fatto il video ciccio shanko Ti ricordo Ah il video che faceva vedere l'auto nuova Vero vero Joker No c'era la macchina Power Power Giorgio power Giorgio power Non ha la patente Non ha la patente Avrebbe visto guidare Giorgio effettivamente se avesse la patente farebbe vedere l'auto super costosa Quindi effettivamente non si è mai vista l'auto costosa di power E quello l'indizio Il primo video è lui sul simulatore di guida che spiega ecco perché non ha una patente Probabilmente ha fatto schifo E ho ucciso Babbo Natale a un classico video probabilmente di qualche indie No di Tarkov che c'era lo scub che diventava Babbo Natale ma vaffanculo Game l'hai beccato Fortnite e Fortnite lo sappiamo I sogni Giorgio è un sognatore E un altro indie game sul gioco di sushi Ok Siamo pariti un po' hard Forse sarà sempre peggio ve lo dico Prossimo Siamo proprio bravi eh Mamma mia il nostro gioco È un titolo questo Non è neanche il titolo peggiore che vedrai nei vari youtuber te lo dico Leggo i commenti Ragazzi questo è Luis Questo è Luis Non puoi dire niente Solo Luis No ma bravo Ok peccato il marketing Tutto minuscolo per uscire dal tutto maiuscolo Marcello Scani No Stormi No No Stormi sarebbe stato Leggo i commenti epici mi dissano incredibile Non una volta Ve ne do un altro Tanto torno presto È un One War Story Leggo i commenti tanto torno presto Volevo dargli un senso ma non è venuto Molto bene Quindi è quello che fa vlog in moto Come si Human Safari Si chiama Non è lui All'inizio non dico che ci foste ma Ok Human Safari secondo canale Sbagliato Primo canale Giusto E infatti prima ho detto no Human Safari mette i titoli tutti minuscoli Eeeh ok dai No Ma perché ce li ha i titoli così lui Io stavo cercando il video di Human Safari e c'era tutta la barretta rossa e i cambi li aveva già visti E beh è schifo Tutti aiisti Ho detto prendo i più strani Acrobazia con un aereo della seconda guerra mondiale e Call of Duty World War 2 Questo era Call of Duty L'avresti indovinato da questo? No questo era Questo era forviante completo Questo era forviante completo Andiamo a riprenderci il fiume Slavtursi Slavtursi Acrobazia con un aereo della seconda guerra mondiale e Call of Duty World War 2 Che cosa ha fatto Human Safari Se non ci fosse stata la parte dopo era il primo che avete fatto Andiamo a riprenderci il fiume E poi vabbè da faradadda le farò in rimacchina Faradadda si capiva subito fosse lui Ma sai perché ho pensato a lui? Perché qualche giorno fa ha fatto uscire un video che si intitolava Generico video in cui apro dei pacchi e rispondo a delle domande Quindi ricordandomi questa cosa che è molto recente Ho pensato beh anche Nicolò usa quel marketing Prossimo youtuber Ti odio Nicolò Pene per tutti Comunque Guarda come nella maglietta di Giovanni C'è una mogus Io mi odio Voglio Siamo youtuber Questo assurdo Pene per tutti Iotobi Games No Pene 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 Gatto sul tubo No Qualcuno ricollegato Termosifoni Forse il secondo indizio può farvi cambiare idea Cazzi svedese Luis No Come si chiama quello russo che fa i video di cucina In italiano Il pollo con la birra nel culo Il pollo con la birra nel culo The emperor qualcosa E lui Se me lo dite corretto Food emperor Tacchino di vaffanculino Io non so che sia sto canale Purtroppo Me lo recupererò Qui volevo sembrare fosse una manata sulla tastiera E il pollo Con la birra Madonna Madonna Lo prendo proprio per gli errori grammaticali Infatti Cazzi svedese Ci stava Perché lui quando parla l'italiano Parla un po' male Perché era la sua terza lingua Food emperor Che canale Nuovo youtuber Speciale Speed painting Spawn Io l'ho letto e detto Ma che cazzo Fra frog No Hai fatto una collab Non sono io Penso sia quel personaggio dei fumetti Eh sì Ah di Marvel Eh di sì penso C'è uno spawn Che ogni volta che cerco spawn su Google Viene fare questo Dico perché non esco io Non valgo niente Richard Htt No Qualcuno che disegna Eh sì non sono tantissimi Qualcuno che disegna Speed painting Grazie Di Bo Spesov No Poteva essere valida Ma c'è J Taz Per Lascani No Mai capito Magari tanti anni fa disegnava Adesso probabilmente non disegna più Vai secondo titolo Eh Gian No È il pensiero che conta Cazzata Yotobi Yotobi Eh ma ci sono le virgolette Vedi anche lui diceva proprio cazzata Questo è un video di Yotobi Cioè questo è un video Io l'ho visto Un pacco opening con regali brutti dei fan Può essere Zero Vai prossima Un passo indietro Poi sempre avanti È Yotobi Cioè che è Ready Player One No È Yotobi Idea Il quarto indizio Secondo me Camper la indovina In 0.1 secondi Eppure tu Piano eh Curicino tag Cosa c'è nel mio smartphone Curicino È Yotobi La Greta La Greta Menchi Non è la Greta Menchi Ah è quell'altra Sofia Viscardi No Uno aveva fatto un video con la Menchi Mettendo questa roba qua Oddio Che la perpulava È certo che è Yotobi È vero Speciale speed painting di Spawn Non me lo ricordavo Scusami Yotobi disegnava? 13 anni fa ha disegnato Spawn Era tipo il suo quinto video questo E l'ultimo Ok Dark Angel Craft Storia di un cane Madonna che video incredibile Era proprio i tempi di Sì quando prendeva per il culo Quelli che adesso sarebbero i tiktoker Eh una volta erano E pensiero che conto E Facebook star una volta Pensiero che conto è Lui con un plico di Probabilmente giochi retro di merda Che ora gli hanno regalato O si è comprato E diceva Questi erano i video che pubblicava su Facebook Io me li ricordo Era il periodo delle Facebook star appunto E lui pubblicava sti video da tre minuti su Facebook Ah ok Ti faccio vedere i regali E io li guardavo tutti Prossimo youtuber molto difficile Questo è un titolo È riuscito a mettere nessun titolo in un video Luis Ha messo un punto, uno spazio Io sottolineavo E fare copia in colla Ma secondo me non c'è neanche lo spazio Non so come abbia fatto Luis? No Lo so Quindi è inutile che provo 100% impossible Try not to laugh challenge Stormy 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 Davy 504 È lui Cazzo è Davy Va a f***o È lui È lui che usa i titoli Ste robe qua strane Sand nudes I take off my headphones E Slap Che fine ha fatto Giorgio? È un video di Jumpy Tech No Poteva essere Poteva essere Giorgio Murri Chi collaborava con Power che non collabora più? Axel? No Non è Axel Giorgio cappello di paglia? Axel non fa video di YouTube Ve ne do un altro Ieri notte Alex è stato castrato Lion 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 Sera Axel Poteva avere lo stesso Stato Lion Eeeh Vabbè Avrà un cane Chi è che ha o aveva un cane di nome? Vabbè Ha un cane Camper ma che dici? Alex Un gatto Una cosa che si castra Un figlio? Un conquilino Porto i miei amici nelle backrooms Che vanno molto di moda Adesso su YouTube E' nuova? Porto i miei amici nelle backrooms Non ci credo Scusate ragazzi Stoppo il video Perché mi hanno appena informato Che con Sluggor Suoneremo a Napoli E questa sarà la prima volta Che Andrea Salvatore Parisi Entrerà in Campania Chissà di gameplay Ma magari qualcuno di Che è reale Scampi 16 bit No Un canale simile Secondo me Ci siamo Lion Lion potrebbe essere Lion porta i suoi amici Nelle backrooms Bravissimi Entrano i carabinieri Siamo il giorno prima a Roma Il giorno dopo a Napoli E poi a Milano Che risa Cinque E l'ultimo Il più importante Spio Anna Incastrata nello steccato Su Minecraft Miti questo video Giorgio sarà qualcuno dei VGF Immagino Ma sì ma sono tantissimi Ma Alex E' uno dei VGF O è il suo cane cazzo E' infatti E' uno dei VGF E' effettivamente Prossimo Coloro le mie scarpe Imbarazzante Allora vuoi qualcuno Che ha le scarpe costosissime Tipo barengo Ti direi E' forbiante Frafrog No Richard Htt No però era interessante Eh sì sai dipingono Vai prossimo Il mio nuovo lavoro Gustoso e leggiadro Non lo stavo a far ridere Quelle gustose e leggiadro Cioè mi sembra tipo Quelle impossibile Pericolose Gustoso e leggiadro Eh bisogna pensare Alla comunicazione Chi usa il termine gustoso Burri La comunicazione c'è capito Imbarazzante Cioè mettere l'aggettivo Alla fine per un po' di clickbait Murri o stormi? No non sono loro I fan controllano la mia vita Per 24 ore DF Sfide assurde Ti direi DF Però Dici bene Loro fanno anche i titoli Tra l'altro io non mi scorderò mai Quando i DF Avevano 10.000 iscritti E io Su Discord Con Cam Per sponsor A pure qualcun altro Abbiamo visto Uno dei loro video In condivisione Schermi E mi hanno detto Cavolo questi sono bravi Gli manca qualcosa E secondo me Potrebbero diventare Un canalino Interessante Di Youtube Italia I DF Oggi sono letteralmente Una dei canali Più grandi Di Youtube Italia Singolare Singolare Ma cazzo Da casa Betlemme In skateboard Ho fatto restare il mio fratello Ah ma quella è Camper L'ultimo No Vado via di casa Di sicuro Non io È un titolo troppo generico Però in minuscolo Quindi è roba recente Luis No 4-5 anni fa Nessuno metteva il titolo in minuscolo Adesso tutti praticamente Perché Luis aveva fatto un video In cui andava via di casa E parlava con i suoi comuni Che era se stesso Vi ricordo Quindi poteva essere quello Vado via di casa Vado via di casa Scritti così Allora io ho visto Tipo l'altra volta I nomi I video di una ragazza Che è andata in Francia Ho aperto il can In Francia mi pare Ha aperto il canale E boh Dai prossimo Perché siamo tornati a vivere Dai nostri genitori Non è andato bene Vado via di casa A vivere dai nostri genitori Mi sa E' spoiler C'è la lore in questo video O scherzi di coppia No Non so quale sia uscito prima dei due Però penso sia così La cronologia dei video Vai prossimo Sandy e le mutandine di Spongebob Questo è Daniel Ma vaffanculo Ho capito è Daniel Schipzo Spongebob BFB BFBB Retarded Due Ero idrati O ritardi Non volevo dire retarded Ma volevo dire Rehydrated Rehydrated Mi dà l'impressione Che sia un Cioè un canale di coppia Eh però potrebbe essere Tipo anche capito Roleplay su Minecraft Roblox Con la storia Sì Giusto Lion l'abbiamo già tolto Sì sì Sennò questo poteva essere Effettivamente anche utilizzato da Lion Tipo Anna Incastorata Non credo sia Gabi 16 bit Perché Io non conosco troppo Quelli che fanno Minecraft Magari i primi due Avrei detto Long Gamer Però scendi Ritando gli Spongebob Prossimo Grande aiuto Il gioco di Big Chungus Chissà cazzo è Big Chungus Come chissà cazzo è Big Chungus Big Chungus Box Bunny on steroids No? È Lars Andiamo via Con l'altro con la nuova immagine proprio Io sono lui e Sir Che vanno via Che vivevano insieme Ah esattamente sì La copertina sembra che ci fosse allagato qualcosa Apro quattro goduriose collezioni di Pokémon di alga e palca originale Vi astro Che sono tutte le cose che gli manda Fede Era dell'Arz Era dell'Arz Ultimo YouTuber Prova a non godere con questo video Davvero difficile Murray Stormy? No Ok Snitex Dexter Zampi Scusa ma cava effettivamente il povero Non si ha mai dimenticato di Zampi Mi sono rotto il C Puntini puntini Beh sono titoli Mai il Shosha Mai il Shosha Il Crociato Il Crociato Sono titoli che hanno usato penso tra i quattro di YouTube Piratorix Siamo molto sul generico qua Ciccio Gamer Joker Eh mi sono rotto il C E molto Joker Eh sì Dici che possono essere Ciccio Gamer e Joker? Tipo adesso parlo io Ho denunciato ma puntini puntini L'U4316 No Ok Neanche Ciccio Gamer e Joker comunque Neanche? Zeb? No Eh Zeb è una bella Che denuncia? Eh qua si restringe il cerchio I denunciatori di YouTube Di Pre? Così dal nulla Prova a non godere Di Pre ci sono le proglie Lo schifo adesso parlo io Eh fa molto Joker Magari dici l'abbiamo provata prima Adesso è cambiata Allora io mi riprovo ancora Jumpy No Richard Htt No Chi ha denunciato? Ha denunciato un punk Andava sotto casa E fa Ma per lo cazzo che è arrivato qua Adesso io ti denuncio Doveva essere molto invadente questo ragazzo Chi è che ha poca pazienza E racconta queste cose in video Provo le pillole da gaming su GTA V Funziona? Mike Mike Ha detto cazzo tutti Tranne Mike Adesso la rovinano tutta Mancava Brazzo Crew e Beast Il primo tentativo la beccano Perché dicono tutti E PNAP Ma sono Mike Ma qua l'ha denunciato O è quando ho scelto Roma O quando l'hanno hackerato Penso quando ho scelto Roma Sì quindi in quel caso lì Ho incontrato Ciro Immobile Era l'ultimo Qui potevate arrivarci a un certo punto Ragazzi A 30.000 like Bello sto video Abbiamo un presentatore Così ce ne sarà uno Veramente degno Potremmo invitare Poli Così giochiamo noi E facciamo fare tutto a lui No? Salveva l'invitare un ospite Che fa tutto a lui Capito? Non c'è mai successo Ringrazio Leo Per aver Degnatoci della sua presenza Dopo due anni Tanta roba Tanta roba Molto molto bello sto video Molto molto bello In realtà la PoldoTV di oggi È stata molto interessante Secondo me Spamme delle emoji di Poldo Con i baffi Ragazzi Però si è fatta una certa ora I video di oggi Sono stati interessanti Abbiamo parlato un po' Dell'andazzo di Youtube Abbiamo parlato dei VTuber Abbiamo parlato di un po' Di cose importanti Insomma Abbiamo parlato Abbiamo discusso Abbiamo detto tante cose È andata bene È andata bene È andata Sono molto contento Signori Forse domani Non ci vediamo E nemmeno sabato e domenica Potrebbe essere Che la prossima live È lunedì Devo vedere Perché è da tanto Che non esco a bere una birra E forse domani Esco con amici Ed è un po' Che non lo faccio Vediamo Devo Devo valutare bene Vi faccio sapere La prossima live Potrebbe essere direttamente Quella di lunedì Su Su Youtube Che brutto Vediamo Fallo divertiti Se no streammo sabato Potremmo streamare sabato Eh Potremmo streamare sabato Vediamo Vediamo Anche perché io e Alice Ci siamo fatti un server Minecraft Quindi ragazzi La mia Basta N'è finita È finita Non sono più Non sono più disponibile Per nulla C'è solo Minecraft